Allora, intanto volevo proprio ringraziare tutti per più di un migliaio di auguri ricevuti per il mio compleanno, i miei 41 anni, quindi grazie, grazie di cuore. E grazie a tutte le persone che mi hanno, oltre agli auguri classici, hanno anche menzionato l'aiuto che cerco di dare con i miei video, con la nostra quotidianità e quello che vorrei ricordare a tutti è che invecchiamo e che sono genitori come noi che hanno figli con delle difficoltà, degli handicap, ogni anno pensa, sono un anno più vecchio e un anno che mi avvicino di più alla, tra virgolette, adesso non per essere drammatici, alla fine e mio figlio potrebbe rimanere solo. Cosa succederà dopo di me? Questo è un pensiero che ci accomuna, che ci spaventa tutti quanti e io lo comprendo benissimo. Vorrei magari dire a tutti di pensare come ho cercato di concentrarmi io sul mio compleanno e dire grazie che ho vissuto un anno in più per poter insegnare ai miei figli qualcosa di più, per un futuro migliore per loro, per cavarsela da soli, o almeno ci sto provando. Il tempo è un dono, è inutile dirgli no. Ci sono persone molto giovani che muoiono, ci sono persone molto giovani che non possono crescere i propri figli e quindi viviamo questi compleanni come un'altra opportunità per fare qualcosa di più. Quindi ogni momento che noi possiamo passare con i nostri figli è il durante noi e dobbiamo lottare per questo durante noi, nella speranza che quello che verrà dopo in parte sarà più facile perché quello che abbiamo fatto ora è servito. Quindi intanto grazie a tutti e continuiamo a lottare sperando di avere alto il tempo per insegnare ai nostri figli a cavarsela, soprattutto considerando le avversità che li affronteranno sia che ci sia un mondo con covid o senza covid. Intanto grazie a tutti e anche in questo distanziamento fisico grazie perché ci avete fatto sentire la vostra vicinanza a prescindere dai confini, dai limiti dello spazio e anche dai limiti del tempo. Grazie a tutti. knowledge but also of differences that can be accepted that can be you know, welcome in this world because that was made the world worthy so thank you so much I'm getting older but one more year to fight to make the world a better place ciao a tutti e alla prossima grazie ancora